Devo mangiare, gà. Devo un po'. Però metto Dancing Bacon e l'affanculo. Dancing Fava. Voglio vedere quanti soldi spenderà. C'è altro. Malesia! Pericoloso. No, non serve questo. Casa mia, panettiere. Il posto è deserto. Pressoché deserto. No, vabbè, dai, al ristorante c'è qualcuno. Un po' underwhelming come costruzione di Lego. Mi aspettavo un ristorante fatto di Lego. O no? Il posto più triste della storia, veramente. Piso, e cosa c'entra? Qua, cos'ha di Lego questa cosa? Nasir and pie with chicken rendang talk set. Cioè, mi dici che cazzo c'è di Lego qua? Il sapore, sì. Crackers. 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 Boh. Ma scusa. Cosa hanno fatto a fare sto ristorante? Roasted Moroccan Lamb Shunk Set. Che cazzo è? Cioè, qua c'entra. No, Pisa, non è un gioco. Non è un Lego. Cos'è Rendang? Cioè, per spiegarmi Rendang talk mi dice Rendang from Perak. Ma io che... Cioè, cosa ho capito? Qual è la differenza tra Rendang talk e Rendang from Perak? Niente, ma non capisco comunque. The rice is Nasir and pie. Pisa, ma quando ce l'hai portata qua? Fantastroberry. Porco di... Però perché è un agnello marocchino? Perché è un agnello marocco? Sì, Marmas, palese. Dai, quant'è Corporate? Dai. Eh, sì, sì, certo. Red Capsicum. Long Bean? Ole, mole. Tornado Grape. Interessante luogo. Mi-Goreng? Eh sì, c'è lo skimmer nel post. Quanto costa? Questo succo di arancia? 4 dollari e 20? Questo bicchiere di succo di arancia? Pure annaquato dal ghiaccio. Verissimo, credo. Sì, sì, Fuschio. Porco... Questo pianto costava 9 euro. Andavo bene, regà. Porco gi- I grandi quando non ti prendono i frazzoletti. Cane, spero che... Non crolli la casa. Beh, sì, Marmas, è vero. Sarebbero i tre numeri magici. Qua sono falafel. Sweet tapioca cake. It's actually Dio, eh? By the way. Hmm. Western food. King's Grill. Proprio bella da vedere, eh? Questa bistecca. Grigliata da re. Non mangiano lego. Vero, Stefano? Zero piatti a tema lego. 16 euro nel viso, Carlo. 21 dollari, Carlo. 22, dai. Non ci siamo. Non ci siamo. Eresia. 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 Non conosco Dyson. Sempre buona la pannocchia, sì. Eresia. 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 No, dai, Gio. Non so nulla. Eresia. Eresia. Ma chi è Malmas Cave Frenessy, scusa? Dovrei conoscerlo. C'è bel nome di uno che gioca a LOL. Quello che ha ritirato con Dada, sì. Ah, ok, va bene. 2020. 4 anni e sono lì, questi. Ma scusa, non servono la pizza surgelata, che è più buona di quella napoletana? Ma sono pazzi. Oh. E lo scudo. Non credo, minestra. Ma anche la pizza non sono riusciti a fare la Lego. L'assurdo, c'è la spiegazione. Non ho capito niente, Dyson. Però va bene. Ma infatti, Andy, c'è una roba easy. Almeno fare le cose squadrate. Non solo la forma della pizza. Mizzeca. Tutto costa questo dildone. Oh, mamma mia. Ho visto un porno che comincia così. Come? Con quel dildone appeso. Oh, ma i tre numeri magici sulla carta di Dancing Bacon, come mi hanno trovato? 8 euro sta bocchina. Microscopica. Ma è piccolo sto coso. The tiniest fucking ramen. Infatti, Marmas, lo possiamo anche trovare. Chicken teriyaki. Ma l'avranno già provata in mille, Marmas. L'hanno già rubato i dati 50 volte. C'era talmente tanti soldi che non si accorge che c'è uno scammer che le tira via 10.000 euro dal conto ogni giorno. Scusa, quanto cazzo hai speso per questa boiata? 10 euro. Sì, o me? Ovvio, Leo. Vabbè, c'è pure la frutta. Ma chi se rincura? Guarda che boiata. 10 euro, fra. Vado all'olio can eat e mangio bordello di roba buona uguale. Comunque, se andiamo a mettere insieme tutti i soldi che ha speso solo per questi cibi qua, sicuramente ci aggiriamo intorno ai 1000 euro. No, super. Magari. Vai. Continuiamo. E questi? Con le uova di pesce che scoppiettano. Il comes with ginger. Ginepro germogliante. E wasabi. Looks very appetizing. Sì, sì, mondo. Penso che potrei spendere un euro e cinquanta per questo piatto. Non ho ancora cenato. Brava. E fallo. Ma quanto è da pussi mettersi quella roba che ti protegge dagli schizzi? Di Burger Junction? That's what I'm talking about. Vai, piacca. A huge crispy chicken burger? 12 euro. Vediamo. Quanto è huge? Looks pretty huge. Dai, è huge, è huge, è huge, è huge. Dai, è huge. Dai, è huge. Ok, ok, ok. È filled. Mamma, ero carmene. È molto huge. Il chicken sembra fine. The fried mushroom. Ma infatti, Manuel, mi fa ridere che quella è la carta di pisellone omega. Non è piccina, Disgra. Dancing Bacons è un bruiser. Ha buildato Sun Red Sky, fra. Primo item. Che tristezza di posto. Una merda, fra. Triple berry slushy. How much was that? Poteva essere peggio. Non trovo più le marmitte. Ok. I profiterolles. Chocolate cream puffs. Quattro pezzi. Ok. Ma sì, piacca. Lei si mangia una frittata di vongole e latte e ti dice, mmm, porco, che buono, cazzo. Warm chocolate cream. Smoked salmon sandwich. Una ciabatta di carote dentro, sostanzialmente. Che cazzo è un salmone? Non sta dentro il panino! Eccola lì. La vedo, la vedo. Una sottilissima fettina di salmone. Dopo il dolce, ovviamente, eh. Ci sta di brutto! Ma è cambiata l'esposizione. Sembra che sta andando a fuoco il mondo. White chocolate dog nut! È grande, eh. Balance ratio. Sembra veramente secca dentro. Una merda, fra. Apple non sparga, I guess, quel per i tre mesi, fra. Doria! 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 No, vabbè, quattro no. Esiste una combo dove le metti quattro? Proprio... No. Il tirami su del Pippo Gaming! Buono. Sempre buono. Sempre buono, raga. Proprio in tempo per la fine della mia 500... Cioè, che l'ho appena finita di craftare. Proprio... Proprio in tempo per la fine della mia... Proprio in tempo per la fine della mia... Grazie.